Sì, eccoci proprio con Davide Zappella perché ricordavamo con Massimo da studio che hai fatto, oltre al gol, e non è poco, hai fatto l'esterno a destra all'inizio, poi hai fatto la mezzala, poi l'esterno a sinistra e poi l'esterno offensivo. Quattro ruoli e un gol, non la dimenticherai facilmente questa partita. No, no, sono abituato come tutti i miei compagni a fare quello che richiede il mister e quindi è andata benissimo, è andata bene per il gol, per la vittoria, per tutto, ci serviva vincere e adesso testa a lunedì. Con il Modena, ma prima di parlare delle Modena, chiaramente restiamo su questa partita, tu sai fare tanti tanti ruoli, ma se dovessi scegliere tu, terzino, esterno alto, mezzala, vai, scegli. No, il quinto, come abbiamo sempre fatto a destra, è il mio ruolo, diciamo, quello che preferisco io. Poi mi adatto appunto, come ho detto prima, a tutti i ruoli che il mister decide di farmi fare, però quello che preferisco è il quarto a destra. La partita di questa sera? La partita di questa sera abbiamo avuto un bel approccio, abbiamo dominato tutta la partita, abbiamo sempre avuto il pallino del gioco noi, e a parte qualche giocata loro, però siamo sempre stati in partita e abbiamo sempre avuto, diciamo, la partita in pugno. Io, prima di dare la linea allo studio, hai detto che ti piace fare l'esterno a destra, no? Come è il tuo ruolo. Però il gol che hai fatto, la chiamata del timing da mezzala è stata perfetta? Sì, sì, va benissimo anche da giocare la mezzala, cioè, senza nessun problema. Come mi hai chiesto, se preferisco fare mezzala o quarto, preferisco il quarto, ma va benissimo anche fare la mezzala. Prima di lasciarti a una meritatissima pizza, una domanda da studio. Sì, al volo per Davide Zappelli, intanto complimenti per questo secondo gol in campionato, se non vado ornato il terzo complessivamente, perché hai disegnato anche con il Grosseto in Coppa Italia il 15 settembre, ma sei stato bravo, decisivo, anche a fine primo tempo, in quella chiusura su Sanogo. Sì, intanto grazie mille per i complimenti. Sì, come ho detto, abbiamo fatto una partita applicata a tutti, abbiamo fatto una grande partita, e ho fatto una bella chiusura, sì, ma comunque come l'ho fatta io, l'hanno fatta anche i miei compagni, e quindi sono felice, sono felice per la vittoria e per tutto. Ecco, ti posso fare una domanda? Grazie a Davide Zappella. No, solo per capire bene, ma sul colpo di testa di Cannavò, dopo il vostro 2-0, c'è stato il palo, la parata di Sorrentino, perché non si è capito bene dalle immagini. Sì, diciamo la palla era a metà tra palo e mani di Sorrentino, non è assolutamente entrata. Eh, ma dico, è stato decisivo Sorrentino, quindi? Sì, sì, Sorrentino. Sì, 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 assolutamente sì. Perfetto. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.